e what's up a tutti ciurma e benvenuti da giocherina in questa nuovissima reaction ebbene ragazzi vi starete chiedendo magari perché quest'oggi non vi sto portando doki doki ovviamente ragazzi se in questo periodo voglio dedicarmi solo ed esclusivamente a doki doki non posso portarlo continuamente magari tutti i giorni della settimana perché potrebbe comunque alla lungo ovviamente stancare per cui diciamo che voglio creare dei piccoli intermezzi diciamo così cioè fare intanto qualche video così un pochettino più random per creare un pochettino anche di pausa ragazzi fra un gameplay e l'altro per cui quest'oggi siamo qui esattamente con questa reaction ragazzi a crazy viral asian makeup transformation miracle of make up cioè sarebbe a dire ragazzi le incredibili trasformazioni su ragazze asiatiche principalmente che il trucco riesce a fare e quindi visto che non avevo mai fatto una reaction una cosa del genere prima quest'oggi mi sono detta ma si dai giocherina perché non fai una reaction a questo tipo di video ovviamente se la cosa vi piace ragazzi fatemelo sapere qua sotto in commento e sfondando il tasto del mi piace per cui se dovessimo arrivare almeno a 50 like diciamo che sicuramente più avanti farò di nuovo una reaction a questo tipo di video ovviamente ragazzi come ben sapete di solito le mie reaction non sono molto parlate per cui probabilmente diciamo che riesco più che altro ad esprimere quello che penso attraverso le mie espressioni per cui vediamo un pochettino ragazzi questo video dura la bellezza di 11 minuti per cui direi di cominciare a guardarlo che poi le ragazze asiatiche le vedi tutte così carine insomma ma che cazzo minchia pure la pubblicità ci se le mette oh merda oh mio dio oh mio dio ma che cazzo ma che cazzo oddio oddio what the fuck oh merda oh merda mio dio gesù minchia me fa impressione sta cosa ma che cazzo è quella cosa se staccano la faccia oddio le pinzette in mezzo all'occhio oddio se c'è una cosa che mi fa senza ragazzi quando la gente si mette le cose negli occhi c'è raga c'è raga oddio cioè non so se ci rendiamo conto cioè c'è raga ma che cazzo c'è raga no 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 vabbè ma ma ci rendiamo ma ci rendiamo conto che non sembrano le stesse persone what the fuck vabbè questa è carina già di suo dai what the fuck no no fermi 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 oh micchia oh mio dio cioè no no non è possibile non è possibile ragazzi cioè non è possibile cioè com'è possibile che siano le stesse per la stessa persona non è possibile guardate cioè non è possibile cioè what the fuck c'è tu oh merda mi fa paura che cazzo oh mio dio oh mio dio cioè non può essere un'altra volta questa già l'abbiamo vista ma che cazzo si è tolta che cazzo si è tolta dal ma quanta che cazzo a parte cazzo a parte c'è che cioè si fanno sti occhi giganti mo ci vuole tipo anime ma what the fuck cioè se staccano 10 miliardi di strisce dalla faccia oh my god oh my god madre mia non puoi no 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 guarda non te le toglie le cose te prego non te no ma che cazzo si è tolta ma che cazzo ma che cazzo oh dio oh dio mio oh dio dio e dai ma che oppure lei si è strappa o scotch non si è strappato o scotch e che alcune cioè non so manco ragazzi mo ci vuole brutte eia sa oddio però dico cioè sembrano altre persone mamma mia cioè la cosa che fa paura è che sembrano altre persone capite oddio ah madonna va in pressione ah oddio cioè ragazzi notate no che sembrano altre persone cioè lo so pazza io cioè guardate la lenta trasformazione ragazzi mi fa impressionare se staccano queste cose alla faccia ma che è Gesù ammazza ammazza ma la mente è a fronte mia madonna Gesù figlia mia cioè queste a fine mese spendono tipo un migliaio di euro solo in struccante fondamentalmente ma che cazzo cioè ma vi rendete conto che cioè bocche enormi sembrano bocche piccole io non capisco è veramente impressionante ragazzi veramente quello riesce a fare il trucco eh meno male che avevo detto che io parlavo poco nei reaction ma qua c'è salati accidenti dai un'altra volta ma che cazzo non solo un migliaio di euro in struccante un altro paio di migliaio di euro in trucchi in robe in scotch in che cazzo si mettono sopra il naso cioè ma addirittura ma che è pelle finta ma cos'è ma che cazzo cioè ma poi vi rendete conto raga che due palle ogni sera magari starsi a fa tutto sta prima ogni mattina starsi a fa tutto l'ambaradana e poi la sera starsi a struccare oddio con i presupposti già non sono proprio ma che cazzo è più carina struccata poi sembrano sembrano ragazzi non lo so tipo bambole no cioè impressionante tutto questo raga perché perché se mettono le strisce sulla faccia madonna quanti chili di trucco di creme di cosa oddio ci vuole pure una pazienza mamma mia olimpica ogni io non potrei ragazzi cioè io rimarrei brutta per la vita cioè io rimango brutta per la vita io non mi trucco ragazzi veramente manco una vita di tutti i giorni perché non c'ho pazienza cioè ci vuole una pazienza altro che job cioè per starsi ogni volta a mettere tutto so questa quinta latare decatrame sopra la faccia ammazza però a me piace la carnagione chiara ma qua mi sa che è esagerato eh madò gesù no 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 raga è tre ore tre ore per starsi a togliere quella cosa la faccia addio cioè what the fuck what the fuck cioè è la prima volta ragazzi che vedo un video del genere e vi giuro che cioè eh so allibita nel senso che non avevo idea per esempio che esistesse tipo cioè una cosa applica tipo pelle ma che cazzo poi si attaccano lo scotch qua sotto per farsi forse evidentemente il viso un pochettino più 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 triangolare forse se sollevano qua lo scotch si mettono lo scotch in mezzo dalle palpebre per farsi giustamente sbucare gli occhi farsi così enormi mettono i gerotti sopra la faccia le cose entra al naso ma che cazzo ovviamente ragazzi se conoscete video del genere ancora più scioccanti di questo vi invito ovviamente a linkarmeli qua sotto perché adesso voglio vedere altre cose cioè voglio vedere ragazzi ed è comunque è vero miracle of make up cioè il miracolo del trucco è veramente impressionante cosa riesce a fare il make up riesce a farti sembrare tutt'altra persona ma io mi chiedo no se si mettono sti chili di catrame sopra la faccia cioè metti caso e se sposano e il fidanzato le ha conosciute sempre e solo ed unicamente col trucco in faccia cioè quando arriva la sera che fanno dormono in camere separate e cioè non consumano mai non dormono nello stesso letto cioè non so il marito le vedrà mai struccate cioè ci sarà qualcuno che le conoscerà struccate cioè no lo so dico io è vero che poi uno dice allora si basa tutto sulle apparenze però è pur vero ragazzi come vi dicevo all'inizio che cioè ti fa sembrare tutt'altra persona cioè è pazzesco perché col trucco puoi arrivare addirittura a cambiarti pure la fisionomia del viso per questo che sembrano tutt'altra persone ragazzi perché gli cambia proprio la fisionomia del viso cioè è pazzesca sta cosa per me che è pazzesca e poi che pazienza e poi c'è quanti sordi voglio dire usare tutti i giorni quei chili di trucco e poi di struccante ammappete non so ragazzi fatemi sapere voi cosa ne pensate se avete altri video a consigliarmi e fatemi sapere se questo tipo di reaction vi piace quindi io totalmente allibita vi dico che questa reaction termina qui grazie a tutti un bacione e buddosh a tutti ragazzi da giocherina ciao